Condannati all'ergastolo tutti e quattro gli imputati per l'omicidio di Giuseppe Fiandaca, ucciso a colpi di fucile il 13 febbraio 2018 nelle campagne intorno a Riesi. Così è deciso la Corte d'Assise di Caltanissetta al termine di una lunga Camera di Consiglio, in linea con le richieste avanzate dal PM Davide Spina al termine della requisitoria. Il carcere a vita è stato inflitto a Pino Bartoli, 35 anni, Michael Stephen Castorina, 33 anni, Gaetano Di Martino, 39 anni e Giuseppe Antonio Santino, detto Lucignolo, di 34 anni. Secondo una prima ricostruzione alla base dell'omicidio di Fiandaca, che all'epoca aveva 38 anni, vi sarebbero dei contrasti per questioni di droga, ma nel corso del dibattimento sono state esplorate anche altre piste, compresa quella passionale. La Corte, accogliendo anche le richieste dei legali di parte civile della famiglia Fiandaca, gli avvocati Giovanni Pace e Walter Tesauro, ha concesso una provvisionale da 50.000 euro per i genitori, la moglie e i figli della vittima, e da 30.000 euro per il fratello e le sorelle, oltre al risarcimento danni che verrà quantificato dal tribunale civile. Gli avvocati difensori, Vincenzo Vitello, Adriana Vella, Michele Ambra, Giovanni Maggio, Angelo Asaro e Ivan Truppi, avevano chiesto l'assoluzione dei loro assistiti. Se ne riparlerà in appello.